30 anni di assenza di teatro, di cinema ad Agropoli e dopo 30 anni in controtendenza rispetto al resto del paese dove le sale cinematografiche, i teatri vengono chiuse e vengono utilizzati per fare appartamenti, negozi e uffici. Qua invece ad Agropoli un investimento pubblico sulla cultura, un investimento che cambierà la vita agli agropolesi, a questo territorio perché un teatro davvero è vita, davvero è cultura e può essere anche sicuramente, lo è anzi, un motore per l'economia è certamente un'opera che migliora la qualità della vita, che cambia le abitudini e che dà anche una speranza in più finisce questo 2014 con questa bellissima consegna alla comunità cittadina di Agropoli del teatro e quindi il nuovo anno inizia con i migliori auspici, ce lo auguriamo perché dove c'è disagio in genere economico disagio di tutte le specie, prima ancora c'è disagio culturale. Un teatro, un cineteatro aiuta a superare il disagio culturale a crescere e quindi a migliorare la vita e la qualità della vita. Sicuramente è una giornata storica, una giornata bellissima per la nostra città, una giornata di quelle che ci riempiono di orgoglio è che danno un senso all'impegno civico perché la giornata di oggi, l'apertura di questa struttura bellissima ripaga di tanto impegno e di tanto lavoro e probabilmente il cineteatro di Filippo era l'opera più richiesta dalla città e quindi oggi che la consegniamo veramente è un giorno bello che veramente ci riempie di orgoglio. Finalmente un'attesa che è durata 30 anni, un sogno che si corona, un altro tempio della cultura che si inaugura stasera siamo felicissimi, oggi sempre di più Agropoli si pone all'attenzione non solo del Cilento ma dell'intera regione Campania quale centro importante per la cultura. Siamo felicissimi, siamo certi di aver dato oggi insieme all'acquisizione del castello di Agropoli uno degli appuntamenti più importanti in questi oltre sette anni di amministrazione Alfieri e sta soltanto adesso ai cittadini di Agropoli e alla nostra città saperlo preservare, saperlo conservare e saperlo gestire. Tantissime le persone presenti alla cerimonia inaugurale, tra cui numerosi amministratori locali e l'onorevole Sabrina Capozzolo che ha portato il saluto del ministro Franceschini. Inoltre è stato letto un messaggio di Luca De Filippo, figlio del grande Edoardo e mostrati dei video con i saluti di Vincenzo Salem e Luigi De Filippo. Successivamente è stato dato un assaggio delle potenzialità della struttura con la proiezione di uno spot sul cinema d'Agropoli e dei omaggi al grande Edoardo De Filippo del celebre attore agropolese Pierluigi Iorio. Il cineteatro è costato quasi 3 milioni di euro interamente finanziati con fondi comunali. La posa della prima pietra avvenne nell'ottobre del 2010.